Il Paradiso 7, Gemma potrebbe annullare le con Roberto sapendo che Marco la ama. La settima stagione del Paradiso delle Signore va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16 e 5 sulla rete Rai e sulla piattaforma streaming Rai Play. Il ritorno improvviso di Marco di Sant'Erasmo, Moise Curia, a Milano, condito dalla clarata rottura delle ragazzo con Stefania Colombo, Gras Ambrose. Sta facendo sì che tra il giornalista e Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, ci sia sempre più simbiosi. In realtà, il fratello di Tancredi, Flavio Parenti, è ancora innamorato della cavallerizza del circolo e complice il consiglio datogli da Matilde Frigerio, Chiara Baschetti, deciderà di esternare senza remore i propri sentimenti alla giovane Zanatta. A prescindere sia Marco sia o meno il padre del bimbo che porta in grembo Gemma. Mistero ancora senza soluzione. La donna potrebbe annullare le nozze di comodo con Roberto Landi, Filippo Scarafia. Magari per sposarsi proprio col rampollo di casa di Sant'Erasmo o comunque per crescere il futuro nascituro assieme allo stesso. Gli spoiler della fiction daily italiana, in merito agli episodi che andranno in onda su Rai un decalitro 24 al 28 aprile. Evidenziano che la simbiosi crescente tra Marco e Gemma sarà prontamente notata da Roberto. Il quale dopo aver osservato a lungo i due non potrà non accorgersi di quanto siano ancora profondamente legati l'uno all'altra. In vista di una visita medica alla quale dovrà sottoporsi la figlia di Veronica, Valentina Bartolo. Landia consentirà che, ad accompagnare la giovane Zanatta, sia Marco e tale ulteriore momento di vicinanza non farà chiacuire il feeling tra gli ex partner. Marco, però, sarà inizialmente resto a rivelare a Gemma ciò che prova realmente per lei. Salvo poi trovare il coraggio di dirle che la ama ancora grazie all'incoraggiamento ricevuto da Matilde in tal senso. La dichiarazione d'amore di Marco a Gemma stravolgerà presumibilmente le carte in tavola. Sia in termini di legame tra l'ex coppia che nel matrimonio di comodo in programma con Roberto. Sebbene resti ancora l'incognita della paternità del bebè che porta in Grembo Zanatta Junior. Quest'ultima potrebbe pensare che portare avanti delle nozze fittizie col redattore del Paradiso Market non sia più una così brillante idea. In quanto si renderebbe conto che il giornalista la ama ancora e probabilmente il ragazzo starebbe al suo fianco anche in questo delicato momento esistenziale. Se così fosse, a pagarne le conseguenze sarebbe soltanto Roberto, al quale verrebbe meno l'occasione di nascondere la sua omosessualità agli occhi altrui. Burtos neam, că și peștii mari sunt slabii, balotez vârtos, le-am spus la tot cam. Ce sunt, ce simt, ce reprezint, mă disting fără bling, că nu te am, nu te voi, nu te mint. Casa de cultură hip-hop mă găsești construind, spui beton după care îl întind și el devine tare în timp. Că așa-i betonul, underground, de 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafonul. Și acum rap-o-i moda ori, nu așa-i. Și zici că stom ford, la cum mă comport, în treaba asta nu-i loc de confort, rigor și-o mor tot. Sunt un crucișător, lans în rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i miscol, de când ascultam gang...